La giornata nazionale del Fiocchetto Lilla è il 15 marzo, noi abbiamo decisa di anticiparla in data di sabato per cercare di sensibilizzare il maggior numero di persone a queste problematiche. È difficile stabilire una percentuale della popolazione che soffre di disturbi alimentari perché purtroppo solamente casi più severi poi giungono ad un'analisi clinica. Tuttavia dei pochi dati che abbiamo a disposizione sono circa 10.000 le famiglie in Abruzzo ad avere a che fare con un disturbo alimentare in famiglia, con una prevalenza della bulimia nervosa seguita dall'anoressia e disturbo di alimentazione incontrollata. Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare in maniera diretta, quindi non dall'alto, a queste problematiche. Quindi verranno posti nelle vie principali di Pescara, maggior traffico cittadino, dei tavolini allestiti come se a fare il pasto ci fossero ragazze, tra virgolette, anoressiche e bulimiche. L'obiettivo è quello di catturare l'attenzione dapprima su questa immagine per indirizzarla a quello che ha il vero significato di un piatto troppo vuoto o troppo pieno. Quindi il tentativo di gestire un vuoto che non si riesce a gestire in altro modo se non utilizzando come strumento il cibo. Quali sono le fasce di età che devono fare i conti con queste problematiche? Allora, gli disturbi alimentari rimangono di prevalenza una problematica adolescenziale. Però quello che si assiste è che in realtà c'è anche una grande fetta di popolazione al di sotto dei 10 anni che soffre di queste patologie così come anche una fascia di popolazione over 40 che porta dietro disturbi alimentari.